E buonsapre ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete letto dal titolo andrò a mostrarvi dove si trova il secondo pinguino giocattolo di Europa. Per chi non sapesse di cosa sto parlando ogni settimana su Europa compare un pinguino giocattolo nascosto da qualche parte sul pianeta ghiacciato. Recuperandoli e depositandoli in una stanza apposita si possono ottenere le lettere di Micah Abram al viaggiatore, un bambino cresciuto su Marte e trasferitosi nel Vespro su Europa insieme ai genitori, scienziati dell'Abrae. Inoltre una volta raccolti tutti i pinguini potremmo ottenere una statua a forma di pinguino che ancora non sappiamo a cosa potrà servirci. Se non avete recuperato il primo pinguino trovate un video dedicato nelle schede e nella schermata finale. Prima di andare a vedere dove si trova il giocattolo di questa settimana però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su video in uscita. Detto questo iniziamo. Per trovare quindi il pinguino dovremmo raggiungere l'abisso di Asterion ed entrare nella struttura Vex sulla destra che porta al Nexus o al Pozzo dell'Infinità. Entrati dovremo continuare verso sinistra in direzione quindi del pozzo. Qui potete tranquillamente schippare tutti i nemici finché non raggiungerete questa stanza interamente rivestita di strutture Vex. Se voleste continuare verso il Pozzo dell'Infinità dovreste prendere questo tunnel che scende. Passando oltre però dietro l'angolo troveremo il pinguino dietro ad una barriera Vex che ci baserà a disattivare per ottenere il nostro giocattolo. A questo punto tornate al passo di Caronte e raggiungete la stanza alla destra di Varix, la stessa dove abbiamo lasciato lo scorso pinguino. Depositatelo su uno scaffale quindi vi basterà riscattare il trionfo e ottenere la seconda lettera di Micah. Qui il bambino racconta di essere arrivato su Europa ed aver rincontrato il suo secondo papà. Fu proprio lui a regalare a Micah il pinguino giocattolo offerto da Clovis Bray a tutti i bambini della colonia. A questo punto il bambino spiega al viaggiatore cosa sia un pinguino in quanto istinto ormai da diversi anni e racconta di aver chiamato il suo giocattolo come uno dei tre astronauti che durante la missione Ares 1 su Marte incontrarono il viaggiatore per primi. Non sappiamo ancora molto riguardo chi sia Micah e come sia andata a finire la sua storia su Europa ma mi incuriosisce molto il fatto che i pinguini che si trovano sul pianeta sono tutti protetti da barriere Vex. Secondo voi come mai? Vi invito quindi a dire la vostra nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita e detto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao!